Siccome hanno organizzato bene la cena, il circolo del PD di San Giovanni, ogni sera organizzano anche una cena, con porti aperte in questo circolo, davvero una cosa bellissima, bellissima. Carlo Renato, come va questa esperienza? Bene, bene, molto bene, molto bene, anche grazie alla comunità di Sant'Egidio che ci aiuta. Riescono ogni sera veramente a fare questo strato, io no, cucina, c'è questa comunità molto bella di solidarietà. Qui c'è una parte di cucina. E' cucinato stasera? Paola, hai cucinato tu stasera? Ho cucinato io stasera. Però non solo io, perché c'è un ben di Dio, eh, esatto. C'è qualcuno che ogni sera c'è qualcuno che ci dà da fare. Dove ci sentiamo? Guarda. Ciao. 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 Ciao.